speciale fantacalcio rubrica dedicata alla tua fantasquadra cari amici di radio no frontiere benvenuti e ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento dedicato al fantacalcio speciale fantacalcio il tradizionale appuntamento settimanale con la tua fantasquadra questa settimana abbiamo deciso di schierare il nostro consueto 3 4 3 con i seguenti giocatori andanovic è il portiere scelto per questa settimana visto che l'inter giocherà in casa una partita che sembrerebbe abbastanza agevole sulla carta contro il chievo difesa 3 inedita con manolas fresco di rinnovo o comunque vicino al rinnovo con la roma a corto raggiunto proprio in queste ore e quindi sarà sicuramente motivatissimo bolucci che non sta vivendo una grande stagione ma giocherà con il suo milan a benevento una partita che non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo per la squadra rossonera allenata per la prima volta da genaro gattuso dopo le sondero di montella e poi ci sarà caldara nel nostro consueto nella nostra consueta difesa 3 a completare il reparto per l'atalanta impegno con il torino sicuramente molto interessante ma caldara resta uno dei difensori più affidabili per quanto riguarda il fantacalcio a centro capo abbiamo voluto premiare alcuni giocatori che stanno facendo molto bene in questo inizio di stagione come suso che probabilmente non sta vivendo con il milan un momento di squadra importante ma personalmente sempre stato decisivo in questo in questa stagione nelle partite vinte dai rossoneri giocherà contro il benevento e quindi una grande occasione per lui per realizzare un gol o fornire un assist assieme a suso abbiamo voluto premiare verdi del bologna che giocherà contro il cagliari ed è sicuramente uno dei centrocampisti più affidabili in questo campionato sta realizzando tanti gol tanti assist ed è sicuramente un giocatore decisivo per tutti i fantallenatori perisic invece giocherà contro il chievo per lui una partita sicuramente molto importante resta uno dei centrocampisti sicuramente più interessanti del panorama fantacalcistico e noi lo vogliamo premiare anche questa settimana così come vogliamo premiare per la seconda settimana consecutiva a luiz alberto che contro il la fiorentina ha realizzato un assist e disputato una grande prestazione e questa volta contro la sampdoria siamo convinti che potrà sicuramente dire la sua magari anche con un gol il tridente è veramente molto pesante qualità tecnica e soprattutto fiuto del gol con insigne di bala che si sfideranno in napoli juve e mauro ricardi che affronterà il chievo lui che si va immobile e il capocannoniere del campionato andiamo a riepilogare dunque velocemente il nostro la nostra top 11 settimanale con andanovic in porta manolas bonucci e caldara in difesa suso verdi petisic luiz alberto al centrocampo in signe i cardi e di bala in attacco questa la top 11 settimanale di speciale fantacalcio un